Abbiamo previsto nella riunione dei presidenti di gruppo all'unanimità la commemorazione di Francesco Alberoni. Gentili senatrici e senatori e con sentimento di sincero affetto e commozione che desidero ricordare in quest'aula il professor Francesco Alberoni. Alberoni lo sapete, era un sociologo, uno scrittore, un giornalista, un docente universitario. Francesco Alberoni è stato un protagonista veramente importante del panorama culturale della nostra epoca e soprattutto uno dei più intelligenti osservatori e acuti interpreti della nostra società. Nel corso della sua lunga carriera accademica Francesco Alberoni ha ricoperto la cattedra di sociologia in alcune delle più importanti università italiane e internazionali, dalla Cattolica di Milano all'Università di Lausanne, dall'Università di Catania alla Statale di Milano, diventando un irrinunciabile punto di riferimento per generazioni di studenti e anche di docenti. Verso la fine degli anni Sessanta ha ricoperto con autorevolezza il ruolo di rettore dell'Università di Trento, impegnandosi sia nel potenziarne il suo ruolo come Istituto Superiore di Scienze Sociali, sia nello sviluppo di un modello universitario più moderno e attendo al coinvolgimento degli studenti nelle scelte didattiche. Dopo il suo ultimo incarico accademico come rettore dell'Università Iulme di Milano, che si concluse nel 2001, Francesco Alberoni ha continuato con passione e generosità il suo impegno culturale e scientifico nei consigli di amministrazione di Cinecittà e della RAI e infine come presidente, per oltre dieci anni, dal 2002 al 2012, del Centro Sperimentale di Cinematografia. Uomo di grande saggezza e profonda empatia, con le sue opere Francesco Alberoni ha esplorato le sfumature più complesse delle relazioni umane. Le sue teorie notissime sull'amore, sull'amicizia, sulla società hanno affascinato e ispirato milioni di lettori in tutto il mondo. Un successo dovuto anche alla sua capacità di esprimere concetti complessi con parole semplici, comprensibili a tutto. È una grande dote che Alberoni aveva e che ci ha tramandato. Ho avuto il privilegio personale di conoscerlo e non soltanto nella fase degli ultimi anni della sua vita, quando ho anche deciso di candidarsi politicamente a Milano e anche alle elezioni europee, non per essere eletto ma per partecipare, anche se poi risultò eletto. Io l'ho conosciuto molti anni prima, quando era nel pieno della sua attività accademica, lui e la sua compianta moglie e ne ho tratto sempre una impressione di grande forza, di grande intelligenza, ma soprattutto di grande umanità. Quello che lo ha contraddistinto almeno nel rapporto personale che ho avuto con lui è stata sempre questa grande umanità e l'importanza che dava sentimenti come amicizia, fiducia e solidarietà, che in una comunità sono un elemento che dà forte coesione. Con Alberoni salutiamo un uomo che ha reso onore all'Italia e che, come hanno testimoniato le tante persone che hanno voluto rendergli un ultimo saluto in occasione dei suoi funerali a Milano. Ha lasciato dietro di sé un'importante traccia di affetto insieme a un'eredità di idee e di valori che, sono certo, continuerà a ispirare anche le future generazioni. Concludo rinnovando il mio affetto, il mio cordoglio e la mia vicinanza, sono qui presenti e li ringrazio di essere venuti numerosi, a tutti i parenti, ma in particolare ai figli Francesca, Paolo, Margherita e Giulio e ai loro familiari, a tutti i parenti, ripeto, del professor Francesco Alberoni, che sono qui presenti in tribuna e con questo ringraziamento invito l'Aula a qualche istante di silenzio in sua memoria. Grazie. 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 Grazie.